bravo stai su alto allora hai visto che l'hai usato? guarda dove l'hai buttato è questo che ti butta sul dietro ci vuole un po' più grosso che almeno ti dà un colpettino in più in compenso c'è l'aiuto dopo però cosa che là c'era il buco sentito il mono come però figa l'ha riuscato su qua dovrei farlo in slow che vedi il movimento a a a a a a a a Grazie.